E per sostenere il mio canale mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando escono tutti i miei nuovi video. Il codice numero 30 si intitola l'immortalità dell'iniziato. E vediamo un po' cosa ci dice. Quindi sia onesto nella tua ricerca approfondita della conoscenza che ti porterà alle più alte credenziali che qualsiasi uomo possa immaginare. La saggezza. Se usi bene le conoscenze acquisite applicandole con saggezza e prudenza, allora la tua sarà la conquista più nobile dell'iniziato cercatore. La via verso l'immortalità. Un codice quindi che ci parla dell'immortalità, ma vediamo allora che cos'è l'immortalità per questi fratelli delle Pleiadi. La ragione dell'uomo mortale, che crede che il suo corpo rappresenti la vita reale, concepisce l'immortalità come la perpetuità della carne. Ma l'immortale nell'uomo è lo spirito che apprende e l'anima che lo guida nella sua ricerca della saggezza. Quanto è difficile da capire per l'uomo mortale tutto questo. È difficile perché egli non cerca la saggezza. È impossibile da capire perché la saggezza è morta nel pensiero di questo mondo. E questo mondo è fonte di invidia, menzogna, ipocrisia, paure che si riflettono nella routine quotidiana di chi dedica la propria vita all'essere, nascere, crescere, riprodursi e poi morire. Chi dedica la vita ai soldi, alle macchine, alle case, ai vizi, che sono solo ego e vanità. Allora il ricercatore onesto sa che ha bisogno di acquisire la saggezza e che questo è il risultato della pratica, della conoscenza appresa, del dedicare la sua vita a conoscere Dio dentro di sé e allenarsi ad ascoltare e sentire la sua volontà prima di quella del mondo verso il quale ha sempre dedicato il suo tempo. Qui l'uomo diventa amorevole e comprensivo, esperto nel perdono e nella pazienza, determinato a servire la verità. Nel tempo, e per opera sua, nasce in lui la sapienza, esatta e prudente applicazione della conoscenza. Questa si manifesta senza fatica perché è naturale in chi riesce a realizzarla. Con essa raggiungerà immancabilmente l'immortalità, che ora riconosce, quella che sa di possedere perché non è più un morto vivente dell'ordine del mondo. Egli è il figlio dell'uomo, rapito per Dio e per il suo trono. Così è la saggezza. Essa emerge dall'esercizio continuo della conoscenza. La saggezza è semplice, sale dal cuore che si è esercitato nella verità dello spirito e questa è la coscienza o la visione universale dell'uomo. Vedete, per me che da 13 anni diffondo i messaggi metafonici allo scopo di mostrare prove alla mano ai veri cercatori della verità che lo spirito è immortale, questo codice appare particolarmente prezioso perché mi sostiene con parole di verità portata dall'alto in questo servizio svolto per portare non solo il sollievo di sapere che la morte terrena non è la fine dell'esistenza eterna ma anche una visione capace di stravolgere totalmente i valori materialistici su cui questa società malata si fonda. E partendo dai valori che limitano l'esistenza umana ai pochi anni che un corpo, per quanto in salute, può durare su questo pianeta si è arrivati a capovolgere totalmente la scala di valori su cui una società sana dovrebbe invece fondarsi. Oggi stiamo vedendo che la maggior parte delle persone è disposta a rinunciare alla propria libertà per salvaguardare quei pochi anni di vita fisica e in più una vita fisica vissuta con forti limitazioni, umilianti imposizioni, disumane, senza nessuna valida ragione scientifica come l'obbligo, per esempio, di portare le mascherine. E rinunciano a quella libertà costata invece la vita ai nostri nonni che per essa hanno combattuto e sofferto. Oggi la maggior parte della gente, manipolata, incapace di ragionare con la propria mente e la propria logica, rinuncia in un amen a un tesoro preziosissimo che sappiamo bene, una volta limitato, la dittatura tende a non restituirci indietro. Si accettano sostanze sperimentali, terapie geniche sperimentali, pur di poter viaggiare, anche se si può viaggiare benissimo anche senza averlo fatto col siero. E ci si dimentica che, in caso si avessero conseguenze gravi fino anche alla morte con questa sostanza, certo viaggiare sarebbe in fondo alla classifica delle possibilità. Quando andiamo ad analizzare certi comportamenti e lo facciamo col microscopio per analizzare ogni più piccola causa che li determina, alla fine il risultato è sempre lo stesso. La gente ha dimenticato il vero valore della vita e soprattutto ha un terrore folle della morte che oggi non sa più cos'è. Ne sapevano di più anticamente, quando essa rientrava nel ciclo eterno della vita e del suo continuo rinnovamento. Oggi, nonostante il fiorire di gruppi spiritualisti sempre più numerosi, pratiche meditative varie, e non ci metto la religione perché ritengo che negli ultimi anni essa abbia perso, almeno qui in Occidente, il ruolo che aveva una volta, soprattutto perché essa oggi non ci parla più di eternità, di anima, di quella dimensione superiore dalla quale veniamo e della quale abbiamo conservato la nostalgia nel cuore, ma parla la lingua materialista del mondo. Per esempio, col suo inganno sulla cosiddetta crisi climatica. Ecco, dicevo, nonostante l'apparente interesse per un supposto spiritualismo, la gente appare sempre più terrorizzata dalla morte e ciò accade perché si va a cercare dove la verità non c'è, nella luce falsa di cui l'oscurità di questo mondo veste ogni aspetto della ricerca spirituale umana. Si va a cercare nell'ignoranza dei falsi maestri che vestono i famosi paramenti insensati, quella saggezza che è invece nascosta nell'esercizio continuo della conoscenza che va praticato in ogni aspetto della propria vita. Quando la logica della logica è ben compresa, quando i suoi meccanismi di giudizi del mondo vengono ben applicati in ogni scelta di vita, in ogni parametro di discernimento del vero, diventa molto semplice comprendere dove sta la verità e dove sta la falsità. E questa capacità si sviluppa mano a mano che si prende coscienza che in noi alberga uno spirito immortale, così come anche la logica della logica ci insegna, come già ci aveva insegnato il grande maestro Gesù Cristo. È questa la base su cui si costruisce poi tutta l'architettura della propria vita. Con questa coscienza e con la certezza di quel Dio interiore che orienta il nostro vivere, la lente attraverso cui abbiamo guardato il mondo e gli altri fino ad oggi si ribalta completamente. Ciò che prima era prioritario nella nostra vita diventa solo un particolare non necessario. La saggezza acquisita fa nascere in noi altre qualità che magari fino a ieri erano poco sviluppate, come la bontà, il desiderio di non danneggiare gli altri e la natura, l'altruismo, il rispetto per gli errori altrui e i loro limiti, la pazienza nel giudizio e nel rispettare le scelte altrui, perfino quelle più incomprensibili. La logica è uno strumento completo, capace con le certezze che ci porta di trasformarci in uomini e donne nuovi, capaci di vivere con maggior distacco, che non è indifferenza, badate bene, gli eventi che si proiettano sullo schermo della vita, che possono dunque essere considerati proprio come proiezioni dalle quali imparare, qualsiasi sia la lezione che queste proiezioni portano. Ed è in questo modo che possiamo percorrere la via verso l'immortalità di cui il codice numero 30 ci parla. E allora, e solo allora, si potranno considerare tesori, cose che fino ad oggi ci erano sembrate trascurabili, non importanti, perché quel concetto di immortalità dello spirito prevede che siano tesori inestimabili cose come la conoscenza, l'amore dato, la saggezza acquisita anche nel dolore che è passato sullo schermo della nostra vita di modo che potessimo osservarlo, viverlo, superarlo, accettarlo e utilizzarlo per riequilibrare il nostro karma e spingere lungo la scala evolutiva il nostro spirito, sceso in questo luogo per apprendere, imparare ed insegnare. Lungo questa via esaltante, Dio stesso ci ha fornito la bussola per no smarrirci. Questa bussola è l'anima, l'anima che ha registrato tutte le nostre esperienze lungo tutte le nostre vite passate, che conosce davvero chi siamo e dunque è capace di guidarci con quell'istinto che spesso è la voce della saggezza che si esprime nelle reazioni a ciò che ci accade e lungo le inattese sorprese che le esperienze ci portano. Vi ho già detto altre volte che la logica della logica non è per tutti e a questo punto posso farvi comprendere meglio perché ho detto questo. Come può un uomo totalmente immerso nelle cose del mondo, nelle sue menzogne, nei suoi falsi bisogni, in quei falsi bisogni che il sistema crea incessantemente, nella falsa idea del successo terreno, farsi largo tra queste trappole così attraenti e immediatamente soddisfacenti per dedicarsi invece a questo cammino che è al tempo stesso difficile ed esaltante? Come può, a meno di una conversione sulla via di Damasco, un uomo che ha vissuto tutta la vita soggetto ai dettami, ai valori del mondo, le cui regole sono stabilite dal principe del mondo, che è Satana, liberarsi per iniziare a guardarsi dentro alla ricerca della vera saggezza e della verità? Come può costui solo immaginare di essere eterno per lo spirito che lo anima e non certo per il corpo che dovrà restituire alla terra? Questi sono i morti che seppelliscono i morti come Gesù ci insegnò e Gesù ci disse di lasciarli seppellire i loro morti, di non tentare di svegliarli, forse perché non sono pronti a passare al livello superiore della vita, quello dove appunto i valori sono totalmente capovolti. A questi morti che respirano la gente come noi appare folle. A loro mancano i codici di comprensione che forse noi ci siamo guadagnati in altre vite, chi lo sa? E dunque persi nella superficie del mondo, nel minimo dei valori di cui si accontentano per restare eternamente insoddisfatti, sentono come pazzie insensate gli insegnamenti che la logica improntata sul modello di pensiero divino porta agli uomini degli ultimi tempi. Se a voi dunque questi insegnamenti vi stanno facendo ricordare verità che sono già dentro di voi, se essi vi risuonano grandemente, profondamente, vi sembrano naturali, potete essere certi che siete nel numero di quel piccolo resto su cui pende la responsabilità di perpetuare il seme dell'umanità nella nuova terra. Uomini e donne come voi non hanno paura, sentono per dentro di essere immortali e di avere una grande forza per volare sopra la vita, senza lasciarsi afferrare dalle sue chimere e dalle sue lusinghe fatte di lustrini, perché voi sapete che il vero diamante è già nel vostro cuore e dei lustrini del mondo. Nulla vi abbaglia, nulla vi importa. Questo codice ci porta dunque una verità preziosa che se riusciamo a fare nostra è capace di stravolgere tutto il nostro pensiero, tutta la nostra visione, il panorama di tutte le esperienze che abbiamo vissuto fino a ora. Tutto assume un'altra luce ed un altro valore. La scala cambia completamente. È lungo quella scala noi troviamo la saggezza che è dentro di noi, come vi ho detto tantissime volte, e come la logica viene ad insegnarci. Dopo questo meraviglioso escursus in questo bellissimo codice intitolato l'immortalità dell'iniziato, che è colui che si avvia fiducioso lungo la conoscenza della logica della logica, andiamo invece a prenderci il diamante che arriva dai messaggi metafonici che anche oggi vi farò conoscere. Voi ben sapete che questi nostri fratelli utilizzano spesso un linguaggio metaforico, poetico, aulico, che però sempre risulta efficace, arriva sempre lì dove vuole arrivare, nel profondo della nostra anima per portare questa conoscenza. e il primo messaggio che vi farò ascoltare rientra proprio in questa categoria, perché vi fanno immaginare questo mondo avvolto in una rete di fili mortali, in una tela di ragno. E quindi questa immagine è molto efficace per farci comprendere le condizioni in cui versa oggi il mondo. E il messaggio dice così «Lì veniva a tagliare i fili» con una voce un po' diciamo metallica, non saprei come definirla, però il messaggio è chiaro e ci dice che il re verrà a tagliarli questi fili e quindi a liberarci da questa tela di ragno che ci opprime e ci opprime ormai da millenni, perché queste forze oscure sono presenti sul pianeta fin da quando quell'angelo cadde sulla terra ad opera di Michele. E quando anche io vi parlo dei cosiddetti potenti del mondo, ovviamente parlo di quattro sorci, di quattro ratti, che in realtà di potenza ne hanno zero, perché sono mortali come noi, sono esseri infimi, anzi sono molto meno di tanti di noi, diciamo pure la verità, perché non hanno raggiunto la consapevolezza di essere divini, di avere dentro uno spirito immortale, cosa che invece tanti di noi hanno già raggiunto. E quindi questo prossimo messaggio ci fa presente questo, che i veri potenti devono arrivare ancora sulla terra, sono quelli che stanno già nei nostri cieli e che arriveranno, quindi evitiamo di chiamarli potenti, perché sono quattro sorci, quattro ratti, i veri potenti arriveranno. E il messaggio ce lo ricorda. Averoli potenti più lava. Dicono è vero, i veri potenti, quelli che sono già nei nostri cieli, arrivano sempre di più sulla terra. Questi angeli, queste potenze superne, Gesù, il Signore, arrivano sempre di più e sono loro i veri potenti, che se lo ricordino questi signori in giacca e cravatta. e quelli di voi che sono più attenti alle notizie internazionali, che purtroppo le nostre televisioni e i nostri giornali però non vi danno, sanno che stanno venendo fuori realtà inimmaginabili, che magari noi avevamo anche prefigurato, ma al solito venivamo accusati, no, con le solite accuse, non voglio ricordarle. e stanno venendo fuori queste verità come quella che il virus è di origine artificiale, come il premio Nobel Luc Montaigne aveva già detto, perché dopo aver esaminato la faccenda si era accorto che c'erano delle sequenze nel genoma di questo virus che non potevano essere naturali e lui, con la sua grande esperienza, l'aveva capito immediatamente. Allora io mi sono fatta delle domande a cui loro con grande sollecitudine hanno voluto rispondere. Ho chiesto ma perché? Perché hanno fatto questo, no? A parte che io vi devo dire che già all'inizio di questa faccenda loro me lo avevano detto, però io non l'ho diffuso proprio per evitare polemiche e mi avevano anche detto in che modo avevano diffuso il virus all'inizio, ma insomma me lo tengo per me per ora. E quindi mi hanno risposto perché? Perché hanno fatto questo? Perché c'è un piano preciso, come sempre abbiamo detto, c'è un piano per depopolare il mondo ma non solo, per cambiare l'organizzazione sociale in tutti i paesi del mondo. E questo l'hanno potuto fare grazie a questa presunta, a questo presunto pandemonio che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo. Quindi hanno potuto introdurre i vaccini utilizzando procedure d'urgenza e quindi saltando tutte le regole che prevedevano una sperimentazione lunga, con dei passaggi molto lunghi, però in caso di emergenza, loro l'hanno creata l'emergenza, hanno potuto introdurre questi liquidi senza rispettare le procedure di precauzione. Quindi utilizziamole noi, queste procedure di precauzione e non fidiamoci di questa robaccia. comunque loro mi hanno risposto perché è stato fatto questo? E mi rispondono così lì gente ci ha investito e lì stai giù? Ma quanto sono incredibili! Ma vi rendete conto di cosa ci vengono a dire? Questa voce ci viene a dire che un sacco di gente ha investito in questa operazione di trasformazione di potenziamento di questo virus all'origine naturale e che poi è stato potenziato in laboratorio per farne un'arma biologica. Hanno investito, hanno dato soldi e loro hanno le liste di queste persone. Sanno chi sono queste persone. Quindi non credano costoro di sfuggire potranno sfuggire alla giustizia terrena perché in molti casi è corrotta ma non certo a quella divina che non si compra coi loro soldacci. Questi fratelli il piano divino sa tutto sa ancora prima che queste persone lo pensino quello che faranno. E quindi che speranze hanno costoro? Anche i piccoli portaborse i lacchei i leccapiedi faranno una brutta fine se non si pentono se non tornano sulla giusta strada che lo comprendano che lo sappiano senza ridicolizzare tutta questa verità che viene realmente dal cielo se lo capissero il nostro mondo già sarebbe un paradiso e questa stessa voce però ci informa di qualcosa di importante ci dice che comunque qui sulla terra c'è l'impero ma l'impero quello celeste l'impero divino e quindi le dice con questa parola touche che hanno colpito nel segno li stanno facendo crollare infatti queste verità stanno venendo a galla ecco l'opera dietro le quinte di cui ci parlano sempre e il messaggio ci dice così qui c'è l'impero touche quindi dove vogliono andare questi dove pensano di andare a volte me lo chiedo veramente perché questi non riescono a guardare oltre la punta del proprio naso poveri disgraziati hanno investito i loro soldi per guadagnarsi un posto nell'oscurità chissà per quanti eoni ed eoni di tempo e come sarà amaro il loro pentimento senza poterlo esternare davanti al signore stesso quando sarà troppo tardi per farlo quando già saranno in quella al di là che gli spetta ma queste navi portate qui sotto il comando del grande arcangelo Michele sono qui perché devono venire a portare la pace e sono il segno di questo futuro che si apre davanti ai nostri occhi per quanto incredibile esso possa apparire ma il fatto che questa realtà non sia lontana incredibile fantasiosa arriva dalle loro stesse parole qui c'è navi e giù aprire e fa è lì pace pace ma questa pace ovviamente ce la guadagneremo a caro prezzo perché purtroppo come Gesù ci ha detto nel Vangelo e ve lo leggerò anche nel codice di domani verranno giorni in cui di tutto ciò che ammirate non resterà pietra su pietra e tutto sarà distrutto ecco il senso del piccolo resto ecco il senso delle anime che dovranno essere il seme della nuova terra perché sono quelle che non si sono sporcate seguendo le lusinghe di questo mondo le lusinghe di questa oscurità che se ne sono liberati che si sono sollevati al di sopra di tutto questo quindi queste navi cosa aprono? aprono la nuova era aprono tutto quello che da questo momento in poi accadrà su questo pianeta e che è già stato scritto fin dall'inizio dei tempi e dopo che tutto quello che è stato costruito da questo impero del male sarà distrutto allora si potrà iniziare a ricostruire grazie a loro questa nuova epoca millenaria di pace e di prosperità per la nuova umanità per i bambini che già nascono con questa luce dentro di loro molto più forte molto più intensa destinata a illuminare tutto il mondo però gli ultimi due messaggi che ora vi farò ascoltare ci portano anche sempre come sempre la consolazione di una speranza anche diciamo la possibilità di pensare che la follia dell'uomo quando arriverà a lanciare l'atomica beh non potrà distruggere tutta l'umanità perché quelli che dovranno salvarsi verranno salvati e infatti questi messaggi che ora vi farò ascoltare sono molto importanti perché ce ne danno la conferma la conferma assoluta che chi si deve salvare si salverà chi dovrà entrare in quella luce ci entrerà ancora mentre è ancora nel suo corpo o anche dopo reincarnandosi in quel mondo di luce e di meraviglia il messaggio dice così il primo perché sono due e sono correlati quindi vi invito ad ascoltarli entrambi perché sono diciamo fanno parte una sequenza che io ho diviso altrimenti sarebbe stata un po' complicata da comprendere perché sapete che le voci metafoniche quando sono inserite in frasi molto lunghe sono più complesse da comprendere quindi vediamo il primo di questi due messaggi sentite qua si l'atomica veniamo quindi invitati a sentire bene quello che ora ci diranno perché parleranno dell'atomica della bomba atomica che da più parti ormai viene paventata come una minaccia concreta perché sappiamo i giochi che stanno facendo e di cui ovviamente i media mainstream non ci parleranno mai perché devono parlare di ben altra cosa e voi sapete quale e quindi vediamo un po' cosa succederà con questa atomica ce falli andare ce giù sorride già allora cosa vuol dire tutto questo vuol dire che il signore permette a loro di venire sulla terra per evitare il disastro totale per evitare che diciamo quando l'uomo deciderà di ricorrere alla follia dell'arma atomica ovviamente tutta la terra non venga distrutta loro interverranno per fermare questa follia perché la terra la creazione non può essere distrutta e non può essere una decisione dell'oscurità o una decisione umana a distruggere una parte della creazione divina quindi loro ci dicono noi siamo lì per intervenire e noi sappiamo da tante testimonianze anche militari che questi mezzi sono già intervenuti molte volte sulle centrali nucleari per bloccare per far vedere che hanno la potenza di bloccare i missili atomici e lo hanno fatto li hanno messi fuori uso in tante occasioni e vi ho anche mostrato in un video che vi ho postato tanto tempo fa qualche tempo fa se lo ritrovo ve lo metterò alla fine del video come video consigliato vi ho mostrato appunto che questi mezzi erano presenti anche sulla centrale di Fukushima nel momento in cui c'era il rischio di un cedimento del reattore nucleare di un cedimento totale di quel sarcofago che gli avevano costruito intorno quindi loro sono molto interessati a bloccare diciamo i mezzi a bloccare i mezzi nucleari le armi nucleari le bombe i missili le centrali e tutto questo perché sanno che quella è un'energia diabolica che può veramente portare alla distruzione di un pianeta è già successo nella storia del sistema solare e quindi loro ci dicono in questo ultimo messaggio il Signore li manda proprio per tutelare che questo non accada per tutelare l'umanità dal pericolo nucleare e quindi ci invitano a sorridere a non avere paura perché magari sì potrà anche esserci un lancio di un'arma nucleare però quella non sarà ovviamente la fine di tutto il pianeta di tutto il mondo in quel momento quindi questi fratelli saranno autorizzati a contravvenire alle leggi che prevedono la non interferenza nel rispetto del libero arbitrio di ogni umanità ma in quel momento sarà loro permesso farlo quindi loro sono qui facendo attenzione guardando appunto facendo l'opera di guardiani della terra e quindi ci invitano a sorridere perché loro comunque sono qua questo era l'ultimo messaggio di questi meravigliosi e fantastici bellissimi messaggi che i nostri fratelli sempre tutti i giorni non ci fanno mancare grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'interesse che state mostrando veramente molto lusinghiero per la logica della logica vi do appuntamento al video di domani in cui tratteremo il codice 31 e vi saluto tutti ciao a 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 tutti